Un piccolo chiesa, una testa, un'altra, 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 un'altra. Un piccolo chiesa, un'altra, 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 un'altra. C'è questa pausa, fate come i muti, stiamo a cantare, poi non volevo cantare, basta che ti punti la stessa cazzo, invece pensa Angelo a cantare, quando parte Angelo che fa capo, il calo di stiamo a cantare. Che? Che vuoi, se c'è il giro? Gli spaccano un pietino? No, no, ha detto che erano i vecchi eri, che volevano dopo, volevano dopo, basta! Eh, che è cantato così? C'è una... Non l'hai fatto, non l'hai preso, non l'hai preso. No, no, no! Eh, io la... Ma ne posso signare. E' chiaro. Ci vado è questo, eh, che ci scanta scantola una cosa? No, non è così, se vuoi vedere. Che si riscanta lì, scanta la pesca? È l'ugola, no, è l'ugola. Si riscanta tutta l'ugola. Lenti, questa... questa non è la barzelletta, però questo... è un fatto vero, per esempio. C'è stato uno, un amico che conosciamo, questo qui praticamente è andata a fare un pellegrino, un pellegrinaggio, un terrasato. Un terrasato? No, non ce lo so. Vabbè, un pellegrinaggio era andata. Allora, dice, stavano tutti insieme, tutti in gruppo. A Ballerano? Eh? C'è i più forti, dici, aiutano quelli un po' più deboli, dice... C'è, non ha sto burro, ma... E questo qui, dice, io stavo bene. Dice, vedo una rossa enorme, dice, una teglia a rotelle. In questa tu, mi piace... Un'altra parte su questa scottagna. No, se tu lo dici qua... Se tu lo dici qua, me ne sono andata... Una cosa incredibile. Sono arrivati su questa cosa, dice che sulle miei melli che sono andato qui. Grazie a tutti